Passato in Consiglio Comunale a Pescara un ordine del giorno del Movimento 5 Stelle, consigliere Alessandrini, che chiede l'istituzione di un comitato di gestione per la riserva d'Annunziana e la nomina di un direttore generale. Sì, esattamente. È stato l'ennesimo tentativo da parte del Movimento 5 Stelle di riuscire a strappare da un monopolio politico la gestione e la direzione della riserva d'Annunziana. C'è bisogno di esperienza, di persone capaci, di chi riesce, come dire, col proprio lavoro e la propria professionalità a dare le indicazioni migliori alla politica per la gestione di questo patrimonio naturale della nostra città che deve essere assolutamente tutelato, conservato e gestito al meglio delle proprie possibilità. Prosegue il lavoro per la ripertura dell'intera pineta d'Annunziana a poco più di un anno dall'incendio. Insomma, la speranza di tutti i pescaresi, di tutti i cittadini è di poter riavere completamente e totalmente a disposizione questo polmone verde cittadino. Assolutamente sì, c'è da lavorare uniti verso l'ampliamento, la fusione delle due pinete che oggi hanno una lingua di asfalto che le divide. Questo purtroppo però è stato fatto a scapito di un'altra area della riserva come quella che costeggia via Pantini. Tutti possiamo vedere qual è lo stato oggi del cantiere che ha sostanzialmente distrutto un'area verde-vergine anch'essa parte della riserva d'Annunziana contro ogni tipo di regolamentazione anche regionale che preserva la riserva. Sentiamo quindi da una parte purtroppo l'amministrazione dire che vuole ampliare, mettere a dimora nuovi alberi, dall'altra distruggere piante che hanno quasi 100 anni per lasciare spazio ad una lingua d'asfalto. Noi in Consiglio continuiamo sempre invece a puntare l'attenzione verso il verde, la rinaturalizzazione e l'importanza di mantenere in vita e di gestire le piante che oggi ci sono perché l'aspetto ecologico e l'importanza ecologica di piante che hanno ormai un'età avanzata è molto molto diversa da piantine di pochi mesi che vengono piantate da zero. Quindi noi in Consiglio continuiamo la nostra battaglia diciamo proprio verso l'ambiente, la gestione e la manutenzione del patrimonio attuale e siamo contenti finalmente di aver portato a casa adesso questo piccolo contributo come la nomina appunto di professionisti per la gestione della riserva d'Annunziana.